E buongiorno dalla Costa d'Amalfi, buongiorno da questa splendida giornata e come vedete anche da persone che si fanno il bagno. E questo sia l'auspicio e sia l'augurio che presto tranquillamente si programmano le vacanze in Costa d'Amalfi a questo bellissimo scenario, questo incanto, quest'area e questa splendida realtà. Bene, allora l'aggiornamento di oggi, perché no? Non è controinformazione per carità, ma è informazione e i casi aumentano e vi ripeto, questo non mi preoccupa per un motivo, perché noi li seguiamo bene, molti sono asintomatici, talvolta mi viene il dubbio come possono essere asintomatici e positivi? Ma sono asintomatici, il che significa che sono persone che stanno bene, forse hai qualche dubbio se fossero veramente positivi, ma continuiamo a dire che anche le persone che hanno sintomi nella nostra clinica virtuale stanno bene. A loro un saluto e un abbraccio, presto saranno con noi e presto saranno in giro in questo splendido scenario, a passeggiare sul lungomare e perché no sulla spiaggia. Un abbraccio a tutti voi dalla Costa d'Amalfi, da Maiuri, un saluto e un abbraccio dal nostro staff, Alessio l'informatico, me e Luigi Di Buono lo pneumologo. Siamo sereni noi, come siete e sarete sempre, sereni anche voi. Grazie.